ciao ragazzi e ragazze oggi video su un argomento che ultimamente in questi giorni sta tornando moltissimo nella mia vita professionale ora qualcuno di voi potrebbe dire che questo è un video di argomento motivazionale d'altra parte lunedì abbiamo tutti bisogno di un po di carica perché dirò che l'importanza della pazienza del duro lavoro del tempo dell'attesa in certi casi viene molto sottovalutata viene molto sottovalutata ma ci dimentichiamo che le cose fatte bene sono cose che più che essere fatte in fretta o lentamente sono cose fatte con una certa strategia che va verso il lungo periodo e questo non è una questione motivazionale una questione personale è una cosa che nel business ultimamente io tendo a vedere veramente troppo questa grande pletora di aziende di persone che propongono soluzioni già fatte soluzioni chiavi in mano soluzioni che in realtà portano ad avere risultati molto velocemente fai soldi online è la cosa che ci sentiamo più ripetere spesso e francamente credo che non ci sia messaggio più sbagliato e non solo per i giovani per tutti in generale però forse i giovani sono quelli che tendono purtroppo a crederci di più per mancanza di esperienza quindi proviamo a diffidare un po di più da tutti questi messaggi cerchiamo di dare valore al tempo col nostro lavoro col nostro impegno avendo ovviamente un obiettivo una strategia e forse riusciremo anche ad allontanare un pochino l'eco grandissima che purtroppo queste persone queste aziende oggi hanno fatemi sapere cosa ne pensate stop whining